Ehi, mi senti? Ehi, vuoi scambiare? Va bene. Vai andiamo, dove vuoi scambiare? Qua. Ma quella doppietta che hai è leggendaria? No, è epica, è il 27, è pure scarica. Vai, entra qua. Che armi hai leggendaria, ne hai? No, ne ho zero. Ho tre armi epiche, due rare, tre non comuni e tre comuni. Mi fai pena, capito? Mi fai pena. Quindi, guarda, guarda, prendi, tieni sicura, non darla a nessuno, è una cosa rarissima. Avevo solo quella, perché è rara, capito? È rarissima. E che cosa è? È schiamativa cella di energia, non darla a nessuno. È una cosa rarissima, capito? Quante me ne hai droppate? Una, una. Ma ne avevo già una, io. Eh bro, è rarissima. Capito? Non darla a nessuno. Ma come ho fatto ad averla io così, di rango piccolo? Cosiddetto? Come facevo io allora ad averla con un rango così piccolo? Non lo so, è rarissima, è rarissima comunque, magari te l'hanno regalata, l'ha avuta per fortuna, non lo so, capito? È rarissima, non darla a nessuno. Va bene. Ma di chi è la base? Mia. Ah è tua. Come ho fatto ad averla? Eh bro, le devi guadagnare. Cioè? Bro, le devi guadagnare. Perché ti stanno aumentando per caso i materiali? Ti stanno aumentando i materiali? Bro, te li sto regalando. Ti sto regalando... No, 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 bro. Ti sto regalando materiali, non ti preoccupare. Ti ho regalato materiali, hai visto quanti ne hai adesso? Ma cazzo, è di tutto tutto, bro. Eh bro, mi è partita la mano, capito? Mi è scivolata. Buon lavoro, bro. Ci rimetti un po'... Poi se non li trappole mi dispiace. Buon lavoro, eh, ristruttura bene. Sì, sì. Noi ne ho dieci, bro. Anzi no, ho quasi nove e mezzo ne ho. Ma c'è scritto su Instagram o no? Su Instagram, ma che Instagram? Cos'è Instagram? No, vattene a farmi. Bro, cosa vuol dire vaffanculo? Io ho nove anni, devi sapere che certi termini non li so. Mi puoi aiutare, mi puoi dire a qualche termine. No. Vabbè, la prossima volta ci vediamo. Bro, ma sei sparito, sei un fantasma. Sì, sì, sì. Bro, ti ho visto qui, poi sei andato là, sei teletrasportato. No, no, tu a Cici non lo dovevi truffare. Perché hai truffato a Cici? Ah, perché... No, tu a Cici non lo dovevi truffare. Oh, fra, ma c'è qualcosa? No, 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 io non... Tu non lo dovevi truffare. Come ti sei permesso a truffarlo? Cosa ti ha fatto? Cosa ti ha fatto? Sì, cosa ti ha fatto? Eh, ma... Su un turno gliela devi rendere. Gli devi rendere l'arma. Ok? Ma fanno entrare. Vieni questo qua regalo mio da parte mia. Su un grande. Oh, guai a voi che nessuno mi prendi nocturno, eh. Eh, però io la devo a Cici quest'arma un po'. Oh, via dal mio nocturno, vai. Via dal mio nocturno. Non me l'ho prende. Cosa? Anzi, no, 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 veni qua, va a stasera. Facciamo la combo, capito? Facciamo la combo, capito? Ma bro, ma... Ma perché mi stai regalando tutte ste cose? Cioè, ma... Bro, ma tu sei pazzo, eh. Boh, vabbè. No, fra, perché io a te... Quanto bene, capito? Devi fare, Manu, cosa devi fare? Manu. Voglio fare una piccola sorpresa. Prima truffi il mio amico. Poi, per ringraziare, cioè, per scusarti, mi dai, vabbè, adesso vediamo un po'. Perché non volevo farlo, però solo... No, io già lo sai, tu a Cici, gentiluomo, non lo dovevi truffare, non lo dovevi truffare. Faccio un attimo, mi vuole prendere un attimo. Bro, ma che fai? Ma sei serio? Guarda, via, via, via. Ragazzi, questo Manu Player mi voleva givare armi, me le voleva regalare. Guardate cosa succede adesso perché il mondo non era suo. No, che cosa ha fatto sto rabbo? Cosa c'è? No! Ti ha fatto perdere le armi? C'è le armi che mi volevi regalare? Ho droppato. Devo cazzo, cazzo, cazzo. Sì, ma tu sei stato scemmo perché non devi drop, tu non devi droppare mai nel mondo degli altri. Mi sei stato espulso? Esito, quelle armi non me le puoi più regalare. E meno male che questo è nocturno, ma l'avevi regalato prima che abbandonassi. Questo è nocturno al 106. Broma, ti sono rimaste armi. Ma queste sono le mie collezioni, te le regalare. No, Broma, tieni letto, non ti preoccupare. Broma? Broma, sei serio? Broma, sei un grande. Broma, sei un grande.